Nuova Banca Etruria rinnova la solidarietà verso la Caritas diocesana con una donazione di generi alimentari a lunga conservazione. Questo continua un gesto di solidarietà, io lo chiamo proprio di carità, vera e propria, che la Banca Etruria continua a operare così in questo segno. Sono tutti quei segni che danno anche, secondo me, un'idea anche diversa da tante cose che pensiamo, disfattismo, tristezze, incomprensioni, ecco, c'è veramente del bello da poter sottolineare sempre. Un contributo reso possibile grazie ad una gara di solidarietà che ha impegnato, oltre che all'istituto di credito, anche il personale di tutte le società del gruppo. C'è la Banca, è vero, ma ci sono i colleghi della Banca che in questo momento hanno sicuramente avuto dei danni anche economici da queste vicende e nonostante quella hanno partecipato con trasporto, direi. E poi tra i fornitori abbiamo voluto anche scegliere dei fornitori che vengono da zone disagiate, come quelle del terremoto, e quindi anche un segnale che c'è la ricerca di aiutare un po' tutto il territorio che fa riferimento alla Banca. La donazione verrà utilizzata nelle menze Caritas di Arezzo per le famiglie e le persone che si rivolgono al centro d'ascolto diocesano in Via Fonte Veneziana, nelle case di accoglienza Santa Luisa e San Vincenzo e nelle caritas parrocchiali operanti nel territorio diocesano. Noi abbiamo per esempio alla mensa 70-90 persone che giornalmente vengono e li accedono e poi anche agli sportelli, non solo di Caritas qui di diocesana, qui nel centro di Via Veneziana, ma anche nelle varie caritas parrocchiali che ormai sono più di 40 in tutta la zona della dioces.